Ecco, chiudiamo le interviste con il nostro bomber Michele Piccolo, 2 a 0, raccontaci la partita di oggi Michele. Tutte le partite che stiamo facendo sono partite difficili, vediamo anche gli avversari, comunque ce la mettono tutta, noi in questo momento stiamo bene, stiamo sfruttando le occasioni che ci capitano e poi teniamo duro anche questo spirito di sacrificio importante che dimostra che la squadra ha gli attributi, quindi stiamo facendo bene. Si denota molto compattezza nella squadra e questo è importante oltre alla forma fisica. Sì, infatti anche a livello di gruppo, sicuramente rispetto all'inizio ci siamo cementati di più, infatti i risultati si vedono sul campo e sta girando bene anche perché ci lo mettiamo tutta anche noi, quindi bene così. Tu come stai? Ma meglio, sicuramente piano piano, sto riprendendo il ritmo partita, però vediamo che sono tutte partite difficili, e quindi niente, la strada è quella giusta e cerchiamo di andare avanti così. Finalmente, ti godi i tuoi tre punti per oggi, ci sentiamo domenica prossima. Grazie Michele, buona domenica. Ciao. Grazie. Grazie Bomba. Grazie.